Ma che è sta cosa? Questa è un'albore natale, un'invenzione, ma partecipi a qualche... Al Guinness World Record. Al Guinness? Al Guinness World Record. Cioè giri il mondo? Sì, sono partecipato. Fammi capire, c'è tutto a quest'ora. Lui a TV. C'è pure la televisione. Beh, vabbè, questa è... Porca miseria. Ma quanto pesa tutto, sta in Baratanna? Stanno pure 90 kg. 90 kg? Sì, ecco. Senza assistenza elettrica? No, 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 tutta la forza pista. E quando prendi la salita che fai? Vado. Vai. Ma quanti chilometri fai al giorno? Ah, 130. Quanti? 130 al giorno. Questa, sei mesi, 10.000 non parto. Ma dove sei partito? Io sto... Lo entro da fuori, dal sud, però... Adesso sto qua perché devo fare il Guinness. Ah. Quindi starò qua fino aprile, maggio, poi riparto. Che spettacolo, ragazzo. Sì. Se buca una gomma, che succede? Devi smontare pure... No, è facile. E fai. E poi, a parte che è buono perché... Eh, c'è le conne buone, visto. Eh. Le forzate. Oh, complimenti, buon viaggio e buon record, eh. Grazie. Ciao.